VEDERTI CRESCERE OGNI GIORNO Il mondo non è tutto rose e fiori e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incasti e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte lo devi dimostrare che sei forte perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne vai in giro a puntare il dito contro chi non c'entra accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I migliaia ti fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Ma finché non avrai fiducia in te stesso, la tua non sarà vita.